Ciao a tutti ragazzi, nuova lezione di giapponese, lezione di giapponese con Kumiko Arai. Ciao! Lei è un'attrice, corregge anche tutti i testi di tutte le mie canzoni e oggi sarà qua per insegnarci un po' di giapponese. Ok, insegnate alcune parole in giapponese. Nihongo, uishiete kudasai. Nandemo iyo. Me, occhi, occhi si dice me, naso si dice hana, bocca si dice kuchi, il mento si dice ago. Vedo che è molto divertita, è molto divertita. So che questa è la terza lezione di giapponese, no, la quarta lezione di giapponese. Come si dice la fronte? La fronte si dice? Odeko Odeko Le guance si dicono? Hoppe Hoppe Le labbra si dicono? Kuchibiru Le orecchie si dicono? Mimì Non so perché è così divertita. Come si dicono capelli, capelli? Kaminoke Kaminoke Ehm... Kore? La barba Hige Hige è la barba. Kumiko purtroppo non ha la barba, quindi non ce lo può dire. Sopracciglia Sopracciglia si dice mayuge, le ciglia si dice matuge, mayuge, matuge, narici, narici, putatsuaru, narici, narici si dicono? Hananoana Hananoana Il buco Il buco del naso Hanano mimicole Hanano mimicole Miminoana Miminoana Il buco delle orecchie si dice Miminoana I denti si dice ha Giaibaru Lei non ha il canino sporgente che piace tanto ai giapponesi Va bene, saluta tutti Di ciao Ciao Salutate il comico, ditemi nei commenti se vi sta simpatica E tra l'altro uno scoop Lavorerò con lei a un nuovo drama, un nuovo telefilm che stiamo facendo Lo giriamo a marzo Quindi sarò anch'io nel cast di questo drama E sarà ispirato a una leggenda giapponese che spero vi piacerà Ciao Ciao La trovate su Instagram